Carmen Torlea, si sapeva che sarebbe stata dura, probabilmente non pensavate fosse così dura? No, ci aspettavamo una partita molto dura perché Coneliano è una squadra che gioca bene, che gioca al massimo delle loro potenzialità, quindi ci aspettavamo una partita così. Ancora una volta sotto 2-0, siete riusciti a rimontare, questa volta però è stato ancora più difficile di domenica scorsa. Ma sì, non dimentichiamo che dall'altra parte c'è una squadra che sa giocare a pallavolo e quindi che si va sotto di 2-0 ci sta anche una finale scudetto, quindi l'equilibrio c'è, è anche normale. Io sono molto contenta che sia la prima partita, sia questa gara qua, siamo riusciti a riprendere e a portarci a casa la vittoria. In svantaggio anche 7-3 nel tie-break, probabilmente ci credevate solo voi? È quello che è importante. Adesso giovedì avete la prima possibilità di chiudere il discorso scudetto? Sì, speriamo, incrociamo le dita.